L'unità operativa di oncologia dell'azienda istituti ospitalieri di Cremona vede più di 800 nuovi casi l'anno di pazienti diagnosticati con un tumore, i quali si aggiungono a tutti gli altri casi visti negli anni precedenti che sono guariti o lungosopravviventi e che vengono seguiti per molti anni. La chemioterapia è sempre meglio tollerata perché le terapie di supporto sono meglio tollerate e i nuovi farmaci generalmente non sono più chemioterapici ma sono dei farmaci a bersaglio molecolare, ossia che colpiscono specificamente alcuni punti deboli della cellula nel suo DNA. Questo aumenta la qualità di vita dei malati che riescono anche a tollerare lunghi periodi di trattamento. L'Arce sta per area di ricerca clinica epidemiologica, fa parte dell'ospital oncologico ed è un ufficio fondamentalmente dove vengono condotti gli studi clinici, cioè delle ricerche in campo oncologico, quindi su tutti i tumori ed è molto importante all'interno dell'ospedale perché ci sono delle figure dedicate a supporto dello staff sanitario per portare nuovi farmaci. L'incidenza dei tumori dello stomaco nella provincia di Cremona è stata calcolata pari a 40 casi ogni 100.000 abitanti l'anno che è un tasso di incidenza molto alto che si verifica anche nelle regioni asiatiche come il Giappone che a livello mondiale sono quelli a tasso di incidenza più elevato. Il tumore del colon retto è tra le neoplasie più frequenti attualmente diagnosticate. Si calcola che sia la seconda causa più comune di tumore, con un'incidenza che raggiunge i 30-35 casi per 100.000 abitanti l'anno. Per fortuna è una malattia attualmente curabile. La cura dipende da una corretta diagnosi e dalla tempestività della diagnosi. Gli eoplasi polmonari rappresentano il secondo tumore per incidenza nell'uomo e il terzo nella donna. L'85% dei tumori polmonari è scatenato dal fumo, quindi il primo consiglio di prevenzione primaria è ovviamente quello di non fumare. Il nostro approccio al malato è radicalmente cambiato negli ultimi anni. Grazie a un percorso di umanizzazione con un progetto che abbiamo chiamato YouCare, che è stato finanziato dal Ministero della Sanità, abbiamo introdotto un percorso informativo per i pazienti in cui a ogni malato viene affiancato un infermiere di riferimento. Questo paziente avrà in questo infermiere un vero e proprio punto di riferimento a cui chiedere notizie in più rispetto al suo trattamento e rispetto alle sue condizioni. Questo avviene durante il colloquio che viene fatto appunto prima di iniziare il trattamento chimioterapico e durante la somministrazione dei vari cicli di terapia. Se un paziente è particolarmente ansioso o depresso viene affidato a una psicologa, noi abbiamo due psicologhe in reparto. Se un paziente ha bisogno di alcune cose, l'accompagnamento verso casa, il fatto di un sostegno, allora abbiamo un'associazione di volontariato, Medea, che si occupa di sostenere i pazienti. Presso l'unità operativa di oncologia è presente un servizio psicologico offerto da due psicologhe e psicoterapeute che offrono questo servizio gratuito ai pazienti e ai familiari durante tutto il loro percorso di cura, ma anche dopo. Solitamente i pazienti e anche i familiari non chiedono aiuto, quindi c'è bisogno della presenza di un esperto e di uno psicologo che riesca ad aiutarli in questo momento difficile in cui le risorse sia emotive che cognitive vengono o meno. Questi pazienti accedono all'oncologia e trovano nella maggior parte dei casi un approccio multidisciplinare concordato con gli altri specialisti dell'azienda, perché in oncologia nessun paziente può essere curato da un singolo specialista. Ogni tumore richiede che più specialisti intervengano nelle cure. Ci sono degli studi che dimostrano che la multidisciplinarietà aumenta la sopravvivenza e migliora l'esito clinico delle cure.